Benvenuti. Benvenuti a una nuova trasmissione del punto approfondimento politico e amministrativo dell'attività dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Oggi lo facciamo con i nostri due ospiti, Claudio Ricci del gruppo Ricci Presidente. Ricordo che Claudio Ricci è stato candidato alla presidenza della Regione nel 2015 per il centrodestra e liste civiche. Buona serata e grazie dell'ospitalità. E poi saluto Attilio Solinas del gruppo Misto e Movimento Democratico e Progressista, Presidente della terza commissione consigliare, benvenuto. Allora, cominciamo con un argomento che vi è particolarmente caro. Ci state intervenendo spesso sui trasporti, in particolar modo sull'alta velocità in Umbria, come fattore di crescita e di sviluppo. Ma quali sviluppi potrà avere questa realtà che diventa sempre più importante? Oggi le infrastrutture ferroviarie, stradali e aeroportuali sono chiaramente importantissime. Ricci, lei da molti mesi che è su questo argomento. Credo che maggiore consapevolezza si stia determinando nel Consiglio regionale dell'Umbria e anche nel quadro del Piano regionale dei trasporti. Noi abbiamo sottolineato la necessità di lavorare sulle infrastrutture, in particolare ferroviarie. Mi riferisco al raddoppio della tratta Spoleto-Terni, mi riferisco al raddoppio selettivo della tratta ferroviaria Foligno-Terontola, mi riferisco alla valorizzazione della ferrovia centrale Umbra. E in questo quadro noi abbiamo anche sottolineato la necessità di pensare anche alla progettualità, almeno strategica, della variante ferroviaria ad alta velocità sulla linea Roma-Ancona. In questo quadro noi riteniamo opportuno anche il progetto della stazione ferroviaria in prossimità dell'aeroporto dell'Umbria. Certo, queste sono infrastrutture che necessitano di tempo per essere realizzate. In questo quadro è emerso un tema, quello di capire se l'alta velocità ferroviaria, in particolare il Frecciarossa 1000, potesse comunque a rango ridotto, a velocità ridotta, come avvenuto nel caso della Basilicata, percorrere una parte della regione, in particolare nella tratta Terni-Perugia verso la direzione Milano, andare anche a velocità ridotta e poi dal nodo di Arezzo proseguire invece ad alta velocità verso Firenze, Bologna e quindi, come dicevo, Milano. Abbiamo anche fatto delle ipotesi su come finanziare questa misura compensativa. Noi riteniamo che l'Umbria viene da un periodo molto complesso, come il centro Italia, o quello post-sisma 2016-2017. Tutto questo ha un costo. Nel caso della regione Basilicata il costo dell'alta velocità è di circa 3 milioni di euro all'anno. Noi riteniamo che questo costo possa essere sostenuto dal governo e attraverso Trenitalia, proprio come misura compensativa per risarcire l'Umbria dai danni indiretti prodotti dal sisma, in particolare nell'economia e del turismo. E questo varrebbe anche per realizzare la fermata del Frecciabianca a Spoleto. Solinas, su queste considerazioni di Ricci e sull'alta velocità, lei è intervenuto su questo tema anche nelle ultime ore. Come andrà a finire, secondo lei? Io credo che noi dobbiamo tenere conto del piano regionale dei trasporti che è già stato stilato e approvato e che prevede un potenziamento delle strutture ferroviarie esistenti, delle linee, un raddoppio di alcune linee, una ristrutturazione dei binari in altre linee che sono vecchie, come diceva Claudio. E ovviamente una priorità è la centrale Umbra. Io credo che nessuna regione in Italia, pochissime regioni in Italia, hanno una struttura ferroviaria, un'infrastruttura ferroviaria fatta bene che unisce il sud e il nord della regione e che va valorizzata, va rimessa in ordine con una linea di binari nuova e con carrozze nuove, perché è un'infrastruttura che può essere sfruttata sia a livello di pendolari, di lavoratori che si muovono da una parte all'altra della regione, sia dal turismo, perché dai turisti che vivono in Umbra. Quindi queste sono le priorità, secondo me, fondamentali. La priorità poi ovviamente è guardare alle necessità dei pendolari, quelli che prendono il treno tutti i giorni per lavoro e quindi hanno bisogno di treni efficienti, linee rapide e quindi vanno messe a norma e ammodernate le strutture che ci sono. Per quanto riguarda le frecce, il treno a alta velocità, è importante, io ho partecipato a un incontro che ho organizzato con il Comitato Viaggiatore di Spoleto insieme all'assessore Chianella per ragionare su una fermata a Spoleto, soprattutto nel periodo del Festival, perché lì già passa un treno ad alta velocità, non si ferma, ma farlo fermare sarebbe un vantaggio, diciamo, anche per persone che vengono da Roma o che devono raggiungere Roma su quel vettore ferroviario lì. Purtroppo tutti vorrebbero un'alta velocità vicina, chiaramente, perché ci collega con il nord dell'Italia, Milano, al sud, però, chiaramente, l'alta velocità bisogna tenere conto che ha caratteristiche tecniche particolari, sono treni che viaggiano a 300 all'ora, che per fermarsi hanno bisogno di 20 km di frenata, quindi non è facile ipotizzare un passaggio di un treno ad alta velocità dentro l'Umbria, con fermate a Sisi, a Perugia, che pur ne avrebbero bisogno. Anche perché sono treni costosi, la gestione costa cara, ci vuole una demanda adeguata, risponde a delle logiche commerciali, di fatto, e poi costano cari i biglietti, quindi bisogna vedere anche il target. È chiaro che una certa fascia di popolazione ne potrebbe usufruire, ma forse una maggioranza non avrebbe i mezzi economici per prendere una freccia. Riveniamo in tema di trasporti, riparto da lei, Solina. Se lei ha toccato un argomento importante, che è la ex Ferrovia Centrale Umbra, chiaramente per l'Umbria è importantissimo per gli spostamenti all'interno della regione, più volte si è intervenuti su questo argomento per far sì che la Ferrovia Centrale Umbra possa servire anche per trasporto, oltre che di persone, anche di materiale. Molto spesso si è intervenuti su questo problema, rilevando l'impossibilità per la strutturazione infrastrutturale, che non permette in moltissimi casi questo tipo di trasporto. Cosa può significare rimettere mano lì, investire nuovamente su questa infrastruttura? Noi scontiamo una politica ormai secolare che ha favorito il trasporto su gomma, per ovvie logiche di determinate aziende che avevano questo interesse. È chiaro che il trasporto ferroviario non inquina, inquina molto meno, e un'infrastruttura come la Centrale Umbra avrebbe la capacità di collegare, pensiamo a Perugia, tutte le piccole stazioni di sosta intorno a Perugia, potrebbe fungere da metropolitana leggera per collegare Sant'Anna, collegare il Silvestrini con un'opportuna deviazione, perché anche lì c'è una linea che ferma. Ma in Umbria un collegamento intra-regionale fra Perugia e Terni, con treni rapidi, insomma, con un treno modernato, potrebbe consentire uno spostamento veloce, quindi deve diventare conveniente, la persone devono pensare, io faccio prima con il treno rispetto alla macchina, per muovermi. Poi c'è il turista ovviamente che lo sfrutterebbe in maniera eccelsa. La maggioranza ci punta in questa legislatura su questo. Assolutamente sì, assolutamente sì, la centrale di Umbria è una ricchezza, è una ricchezza assoluta, perché arriva fino a Sansepolcro, insomma, collega il nord e il sud con varie fermate, ma tutte queste piccole realtà ferroviarie in altre nazioni, pensiamo alla Svizzera, adesso penso alla Spoleto-Norcia, è un peccato che sia stata chiusa, lì potrebbe essere valorizzata, vengono valorizzate nelle nazioni più avanzate, queste piccole ferrovie in generale locali, hanno una valenza turistica enorme, se opportunamente valorizzate con investimenti. Chiarissimo. Ricci. Credo che su questo tema ci siano stati anche da parte dei gruppi di centrodestra a liste civiche molti interventi anche nell'ultimo consiglio regionale. La ferrovia centrale Umbra ha oltre 100 anni di storia, quindi come diceva il consigliere Solines rappresenta un'asse portante del sistema trasportistico e socio-economico e culturale del nostro territorio. Ora dobbiamo ricordare che vi è stato un atto convenzionale, una concessione, che ha portato la regione Umbria ad intraprendere un percorso, mi auguro, positivo con rete ferroviaria italiana. Ci sono anche delle risorse disponibili. Nell'ultimo consiglio regionale è emersa la cifra di 53 milioni di euro. Credo che questa risorsa vada in maniera incisiva impiegata per migliorare l'armamento ferroviario, l'infrastruttura, le tecnologie, ma anche migliorare le stazioni, le stazioni ferroviarie che possono diventare anche dei poli importanti dal punto di vista culturale, e turistico, oltre che commerciale. E in questo quadro non dimenticare l'utilizzo anche di nuovi convogli ferroviari, come i tram-treni, cioè delle tecnologie che possono passare dal sistema ferroviario a quello urbano, in particolare pensando ai nodi di Città di Castello, ai nodi di Terni, ai nodi di Perugia. Certamente noi dobbiamo investire di più nel trasporto pubblico locale. Il piano regionale dei trasporti cita in una necessità 18 convogli ferroviari in più per i passeggeri e per i pendolari. Oltre a questo abbiamo ricordato i servizi a mercato, come il Frecciarossa 1000. Questi hanno un costo. Noi abbiamo anche detto o il governo sostiene questi costi aggiuntivi come misure compensative per il post-sisma, per esempio la fermata del Frecciabianca a Spoleto è certamente un elemento importante anche per la Valnerina. Oppure però può esserci anche la decisione della Regione Umbria di dire che le 57 società partecipate hanno un costo per la Regione di 28 milioni di euro all'anno, si riducano un po' questi costi per investire più nel sistema dei trasporti che significa economia e turismo. Prendiamo di sanità. Solina, se lei è un medico, quindi vive, ha vissuto in prima persona la sanità Umbra, la sanità regionale, e adesso la vive anche da consigliere regionale, in particolare molto da Presidente della terza commissione che si occupa proprio di sanità e sociale. Un comparto che rappresenta più dei due terzi, assorbe più dei due terzi del bilancio regionale. Bene, quindi è una domanda che faccio spesso perché i cittadini oltre al tema del lavoro, oltre al tema dei trasporti, interessa molto sapere qual è il grado di salute della sanità. Qual è Solinas? Io non sono d'accordo con chi dice che in Umbria il servizio sanitario sta andando bene. Si potrebbe fare molto meglio, si può fare di più. Abbiamo un... Lo dico da politico, perché ormai sono parecchi mesi che lavoro, mi rendo conto qui, in consiglio regionale, mi rendo conto di quali sono le logiche amministrative e noi abbiamo i conti in ordine della sanità. Questo è un dato importante, cioè una base di partenza economica valida, ma dobbiamo fare di più per la riorganizzazione dei servizi. Siamo indietro, siamo a un servizio sanitario regionale arretrato dal punto di vista dei servizi territoriali. Noi abbiamo un ospedale eccentricità che è ancora eccessiva, abbiamo i pronto soccorsi che ancora scoppiano. Io ho constatato di persona, la sera vedo delle file enormi, vedo pazienti che arrivano dai territori Umbri impropriamente, in modo inappropriato, al pronto soccorso del Silvestrini. Perché? Perché non funziona il territorio, vanno potenziati i servizi territoriali. Questa è una cosa da fare rapidamente, metterci le mani. I direttori generali hanno il mandato di realizzare queste situazioni, queste prospettive delineate dalla riforma sanitaria. Quindi servizi territoriali dove c'è una grandissima carenza, nelle malattie croniche soprattutto, negli anziani, nei disabili. Si invecchia molto in Umbria, ma purtroppo non si invecchia bene. Ci sono malattie croniche, ci sono disabilità, ci sono ictus, ci sono infarti. Quindi le persone hanno bisogno di ricoveri, di sostegno dopo l'adegenza per acuti, hanno bisogno di riabilitazione, hanno bisogno di residenze sanitarie assistite. Vedo tanti anziani che cercano, sono in lista d'attesa per avere un posto, non possono tornare a casa perché devono essere assistiti in un modo che a casa non è possibile. L'assistenza domiciliare va potenziata, quindi servizi territoriali in questo senso. La qualificazione va potenziata a livello degli ospedali d'eccellenza. Secondo me bisogna investire su professionisti anche da fuori regione, quindi arricchire la nostra offerta specialistica sanitaria perché ovviamente ci sono umbri che vanno a curarsi fuori. Questa è una realtà, anche se la mobilità attiva ancora regge, però insomma i servizi reggono di fatto, però c'è un trend verso un pochino l'uscita dalla regione. Ricci, ha fatto una disamina e ha toccato argomenti che potrebbero far parte di un programma elettorale, perché poi le criticità le ha sottolineate, come pure chiaramente l'eccellenza. Se questo è un punto di vista di un medico per la sanità, se chiedo il punto di vista di un ingegnere, come lei è, per la sanità, che risponde? Siamo all'inizio di un percorso importante, quello che porterà l'Umbria al nuovo piano sanitario regionale, che sarà anche molto connesso, per le ragioni che ricordava il presidente Attilio Solinas, con anche il tema dei servizi sociali. Io credo che il nuovo piano sanitario regionale debba partire da due parole. Il merito, cioè cercare di valutare ogni scelta sul curriculum. Gli ospedali sono fatte di molte cose, ma in particolare di persone. Più si qualificano le persone e più si riesce ad attrarre anche opportunità da altre regioni, quella che viene chiamata mobilità attiva. Persone, pazienti che possono arrivare in Umbria per curarsi. Su questo poi occorre integrazione, cioè le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e il territorio, che ha una determinazione importante per la prevenzione, a cui dovremmo dedicare almeno il 5% della spesa sanitaria regionale e nazionale, debbono essere integrati fra di loro. E a questo punto occorre lavorare molto, per esempio, per realizzare una centrale regionale unica acquisti in materia sanitaria, che oggi raggiunge solo il 51% di centralizzazione degli acquisti e questo potrebbe determinare risorse aggiuntive da investire in sanità. Così come si sta parlando molto del fascicolo sanitario elettronico, la tecnologia al servizio della sanità. Così come si parla molto della logistica dei farmaci. E tutto questo, che può portare dei risparmi, poi vanno investiti per, per esempio, arrivare ad ottenere visite in non più di 30 giorni, esami sanitari in non più di 60 giorni, e anche lavorare molto nel territorio qualificando quelli che venivano definiti i medici di base, quindi il quadro della medicina generale, qualificando i servizi nelle farmacie, qualificando i servizi nei distretti territoriali. Tutto questo dovrebbe contribuire a creare un sistema maggiormente efficace ed efficiente per i cittadini. Un altro minuto, parliamo di sanità, poi entriamo in un altro argomento. Abbiamo 10 minuti prima della conclusione. Solina, se lei ha impostato la sua attività da Presidente di Commissione, aprendo moltissimo alle audizioni, quindi ascoltando direttamente gli operatori, le associazioni, i cittadini, insomma, per farsi un'idea di quello che è la sanità. Quindi quello che lei ha sottolineato prima è il frutto, diciamo, una sintesi di tutto quello che esce da queste audizioni, cioè il cittadino, dove lo vede più preoccupato? Sul fatto dell'assistenza domiciliare, come lei diceva prima, sulle liste d'attesa, su cosa? Soprattutto sull'assistenza territoriale. Il problema l'abbiamo rilevato, abbiamo fatto tantissime audizioni noi. Abbiamo captato, recepito problematiche, soprattutto nella... Faccio un esempio, la psichiatria. La psichiatria è in grave carenza di organico. C'è stato un articolo da qualche tempo fa sul Sole 24 ore che pone l'Umbria all'ultimo posto come assistenza, come personale di assistenza, medico e paramedico per la psichiatria. Questa è una cosa grave perché in Umbria c'era una tradizione di eccellenza per l'assistenza. Quindi migliorare... Penso ai consultori, penso a... Noi abbiamo recepito tante problematiche, dai bambini con autismo all'assistenza agli anziani con disabilità. Abbiamo fatto una conferenza interregionale sulla non autosufficienza, che è un altro tema importantissimo. Insomma, c'è da fare, c'è da investire, non si può lasciare al privato. Cioè, il privato va integrato, deve fare le cose che può fare, organicamente in integrazione appunto con il pubblico, però bisogna investire di più nell'assistenza. Ricci, lei non fa parte della terza commissione, ma lei, devo dire, a onor del vero, è sempre presente in tutte le commissioni, sia che ne fa parte o no, è suo diritto chiaramente partecipare, e lo fa sempre in maniera obiettivamente attiva, all'interno di questi organismi consigliari. Da quello che diceva prima Solinas, da quello che ha ascoltato lei, dalle infinite, possiamo dire, numerosissime audizioni che sono state finora calendarizzate, cosa emerge, che quadro emerge? Credo che va riconosciuto al presidente Attilio Solinas questa grande incisività nel ripartire dal basso. Quello che ho notato da persona che si occupa anche di sistemi manageriali, è che per costruire una buona sanità bisogna ascoltare molto, per esempio, i direttori di struttura complessa, coloro che lavorano in line, cioè coloro che hanno a che fare con i problemi operativi, perché ascoltando bene coloro che hanno a che fare con i problemi operativi, si riesce a determinare un'azione dall'alto che sia efficace ed efficiente. Emerge però un tema, il maggiore coordinamento tra i vari elementi della sanità regionale. Io credo che ormai siamo vicini alla presa d'atto che occorre lavorare per una azienda ospedaliera, per una ASL, con sedi a Perugia, a Terni, nelle principali città dell'Umbria, ma più riusciamo ad aggregare le componenti e più ovviamente avremo una sanità efficace ed efficiente. Lei deve essere d'accordo su questo, Solinas, su una sola ASL, una sola... Ci dobbiamo ragionare perché gli amici ternani si potrebbero ribellare a questo proposito. Sempre con due esseri, Terni e Perugia. Ho capito. Allora, entriamo in un altro argomento, capisco che è un argomento che richiederebbe moltissimo spazio, però parliamo di sisma, ricostruzione, rimane sempre d'attualità perché poi, lo diceva Ricci, ad inizio trasmissione quello che è accaduto a metà dell'anno scorso e ha continuato, il terremoto ha portato una larga parte del territorio umbro in situazione critica, la Valnerina soprattutto, però quello ha fermato il turismo in tutta l'Umbria. Sembra che nel ponte, questo ultimo ponte del primo maggio ci sia stato un incremento di turisti, però è sempre un mordi e fuggi, insomma, gli alberghi lamentano mancate presenze rispetto al passato. Allora, su questo cosa dobbiamo fare? Quindi ricostruzione e rilancio dell'economia, il turismo, voglio dire, è un motore fondamentale per il PIL regionale. Solinas, cosa bisogna fare? Si sta lavorando bene oppure bisogna fare di più? Beh, bisogna sempre fare di più, bisogna sempre puntare al meglio. Noi abbiamo disponibilità nei prossimi anni di ingenti risorse dalla ricostruzione per il terremoto, i fondi europei che sono oltre un miliardo e ottocento milioni di euro, più abbiamo l'area di crisi del Ternano. Quindi sono milioni di euro che dobbiamo sfruttare bene. Questo lo dico con un senso di critica costruttiva nei confronti della maggioranza di cui faccio parte. È un'occasione importante, dobbiamo mettere in sicurezza i nostri edifici pubblici innanzitutto nelle aree del terremoto o a rischio del terremoto, rilanciare l'economia con investimenti pubblici. Questa è una realtà. Quindi i fondi europei ad esempio dobbiamo capire come assegnarli, cioè bisogna assegnarli nella ricerca in innovazione tecnologica, alle aziende che creano posti di lavoro. La condizio sine qua non deve essere la creazione di posti di lavoro, non si possono dare a pioggia anche in agricoltura, non si possono dare a pioggia a risorse europee senza andare a verificare come vengono spese e se creano posti di lavoro. Cioè basta, è finita la pacchia, è finita, non si può più, cioè su questo sarò estremamente critico. Quindi investimenti pubblici in infrastrutture ne abbiamo parlato, investimenti pubblici nella ricerca. Dove va un paese se non investe nella formazione della ricerca? Se noi tagliamo i fondi all'università abbiamo fondi europei anche per la ricerca scientifica. Si lamentano i nostri atenei perché anche dallo Stato arrivano meno soldi e quindi noi possiamo compensare con risorse. Quindi puntare su queste realtà. Il turismo è fondamentale, il turismo deve essere un asset a sé, a sé, assoluto, bisogna investirci. L'Umbria ha una ricchezza, pensiamo ai borghi più belli d'Italia, l'associazione che è nata in Umbria che sta avendo un successo enorme anche in termini di promozione. Quindi bisogna puntare su queste cose, la filiera del turismo, la filiera dell'economia verde, insomma, tanti temi sono, non ci vorrebbe tanto tempo. Ricci, lei più volte ha parlato di turismo emozionale, quello legato, sfruttare, tra virgolette, chiaramente anche questa situazione che ha creato il sisma in Valderina e sta funzionando perché poi mi sembra che la Valderina ha riaperto un albergo negli ultimi giorni, quindi è un segnale estremamente positivo. Però i turisti, anche se da mattina a sera oppure per qualche ora, ce ne sono tantissimi. Ecco, qual è il modo migliore per far ripartire questo motore del turismo? Turismo e terremoto saranno due parole che ci impegneranno molto nei prossimi anni. Sul terremoto credo che il Centro Italia, le quattro regioni del Centro Italia, debbano soprattutto velocizzare l'installazione delle casette. Sulle 3.000 necessarie solo il 5% sono state installate. Essere molto altenti nelle risorse. Servono nei prossimi anni 23 miliardi di euro più quelle necessarie per i danni indiretti e la valorizzazione dei territori del Centro Italia dopo il sisma. e occorre poi semplificare, velocizzare le procedure di rilascio dei titoli autorizzativi. Per quanto riguarda il turismo c'è un elemento chiave che è vendita, commercializzazione. Noi dovremmo nei prossimi anni avere un rapporto costante con i principali 150 tour operator, agenzie ovviamente che intermediano turismo, compagnie aeree low cost che sono comunque importanti per la vendita del turismo e lo sviluppo dell'aeroporto e anche avere un rapporto privilegiato con i grandi motori di ricerca a partire da Google. In Valnerina abbiamo sottolineato anche in seconda commissione consigliare priorità sono le strade, la riqualificazione delle strade, la riapertura, il prima possibile la ricostruzione della Basilica di San Benedetto perché io ricordo nel 1997 il turismo si riattiva quando riaprimmo la Basilica di San Francesco perché la Basilica di San Benedetto era vice sindaco vice sindaco e poi sindaco la Basilica di San Benedetto è il polo attrattivo principale per l'intera area appena riaprirà la Basilica si vedrà che il turismo acquisirà stabilità ultimo elemento velocissimo vi è un grande interesse anche nella visita dei cantieri della ricostruzione dei beni culturali allora si possono determinare itinerari per la visita ai cantieri anche utilizzando nuove tecnologie come le visite immersive virtuali e l'innovazione tecnologica l'ultima domanda riguarda la politica entrambi state lanciando comunque lavorando su nuovi movimenti politici parto da lei Ricci che per il movimento civico Italia poi vado da Solinas che è il movimento democratico e progressista nato da qualche settimana da una scissione del partito democratico parto da lei quale futuro per il centro perché il suo è un partito di centro ma io credo che il centro-destra in Italia abbia un futuro molto chiaro da un lato ci saranno un partito di destra una destra moderata però io credo che sia necessario lavorare per ricostituire un grande centro moderato civico ovviamente un civico e moderato che però abbia la capacità di fare di realizzare di proporre rispetto ad altri movimenti legati al no e alla protesta credo che il nostro paese ha necessità di un nuovo centro moderato e civico che sia in grado di fare allora c'è bisogno di un centro lei Solina si dice c'è bisogno di una sinistra per questo un gruppo di ex del partito democratico hanno creato tra i quali lei il movimento democratico e progressista allora articolo 1 movimento democratico e progressista punta alla ricostruzione di un centro sinistra realmente progressista che riunisca tutte le forze cattolico-democratiche socialiste insomma tutte le tradizioni che erano rinte nell'ulivo nell'ulivo sono qualche settimana che è nato MDP e già si è arricchito di molte persone che sono venute a prescindere dal PD quindi non sono scissionisti del PD quindi tante persone anche in Umbria ci sono e noi contiamo di recuperare il consenso di quei milioni di cittadini che non hanno più votato per il centro sinistra che hanno smesso di votare o hanno votato per movimenti populisti quindi c'è da fare ma l'obiettivo è raggiungibile secondo me In 5 secondi Ricci come guarda la segreteria Renzi del PD? Credo che Renzi come 10 secondi Renzi lo ha citato anche lui questo per lui è un nuovo inizio a mio avviso deve porsi con un atteggiamento molto più collaborativo togliendo l'io e utilizzando il noi soprattutto in una situazione dove comunque se Renzi riuscirà a determinare un quadro di maggiore noi moderato credo che questo sarà importante anche per costruire un centro destra con un centro più moderato in grado di costruire ed evitare dei movimenti che sappiano solo dire no internet è importante si vende anche molto in turismo con internet però bisogna tornare alla politica del guardarsi negli occhi Sonina come guarda la segreteria Renzi? Chiaramente Renzi gli italiani lo conoscono bene perché ha governato tre anni ha fatto riforme che si sono dimostrate non efficaci alcune valide Renzi ha perso consenso ha perso circa 600 mila voti un terzo del suo consenso nelle ultime primarie quindi adesso gli diamo è diventato segretario di nuovo nel partito democratico vediamo quello che farà però noi lavoriamo per un'altra cosa avremo occasione e modo di ripercorrere tutti gli argomenti che abbiamo affrontato in questa trasmissione io ringrazio per questo Claudio Ricci grazie buona serata gruppo Ricci presidente Attilio Solines del gruppo misto Movimento Democratico e Progressista articolo 1 presidente della terza commissione consigliare grazie grazie a voi per averci seguito e arrivederci alla prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti